Ciao studenti, oggi vi spiegherò Bembo e la questione della lingua. Per questione della lingua intendiamo la storica disputa in ambito letterario per identificare quale lingua usare nelle opere scritte. Per secoli il volgare sarà percepito come inferiore al latino. La prima riflessione sulla lingua verrà fatta con Dante nel De vulgari eloquenzia, dove sottolineava la necessità di un volgare illustre. Bembo nel 1525 indica come modello linguistico il fiorentino letterario del 1300, quindi Pietrarca per la poesia e Boccaccio per la prosa. Non sceglie quindi il fiorentino parlato dei suoi tempi, tant'è che rifiuta Dante come modello, a causa dei diversi livelli linguistici nella commedia. Tra le tesi contro Bembo troviamo quella cortigiana, che portava la lingua in uso nella corte, e quella italiana, che negava il primato della lingua toscana. La tesi di Bembo sarà poi appoggiata dall'Accademia della Crusca.